. Uomini e donne anticipazioni, Gemma e Giorgio via, l'ultimatum di Maria De Filippi. Anticipazioni uomini e donne, Gemma e Giorgio lasciano il programma? Maria De Filippi sarebbe stanca. Maria De Filippi pronta a fare fuori dal trono di uomini e donne Gemma Galgani e Giorgio Manetti. A farlo sapere il settimanale Nuovo TV che, nell'ultimo numero in edicola, riporta alcune indiscrezioni secondo le quali la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe dato un ultimatum alla dama di Torino. Che tipo di richiesta avrebbe fatto la conduttrice? A quanto pare quella di fare più chiarezza, i teatrini di Gemma con il Gabbiano avrebbero stancato non solo l'opinionista Tina Cipollari e il pubblico, ma soprattutto la De Filippi. Che sarebbe pronta, senza troppi problemi, a far fuori due protagonisti più conosciuti e discussi del suo programma a pomeridiano. . Secondo le indiscrezioni, Maria avrebbe chiesto a Gemma di fare chiarezza una volta per tutte, con se stessa e con i suoi sentimenti, così da evitare di prendere in giro i pretendenti che arrivano in trasmissione per conoscerla si legge sulla popolare rivista. . In effetti, da quando ha lasciato Marco Firpo, la Galgani non ha più trovato pace con nessun cavaliere giunto alla corte della De Filippi. . Non solo, la donna ha confidato di provare ancora qualcosa per Giorgio che in un'intervista l'ha definita una delle donne più importanti della sua vita. . Insomma, la storia tra Gemma e George si è riaperta, anche se il fiorentino ha chiaramente escluso un eventuale ritorno di fiamma. Questo tira e molla infinito avrebbe però stancato Maria, che sarebbe contraria ai ripensamenti della coppia. . Ci sarà presto un addio definitivo?. . Uomini e donne, il trono over campione d'ascolti batte regolarmente il trono classico. . . E Giorgio a parte, il trono over è un vero e proprio successo per Mediaset. . Da settembre batte regolarmente il trono classico. . Più di 3 milioni di persone al giorno seguono il segmento dello storico programma. Senza la Galgani e il Manetti Uomini e Donne Over riuscirebbe ad ottenere gli stessi risultati? Lo scopriremo solo vivendo